Sono Massimo Ferrati, vi occupo della parte di finanza e controllo dell'azienda. Francoforte 2012, per noi è sempre un banco di prova piuttosto importante, è una manifestazione a cui teniamo particolarmente, ci presentiamo qua in forze, presentiamo in questo nuovo, in questo 2012, un nuovo prodotto che è il piccolo, che vedete alle mie spalle, il quale è il primo tentativo, il primo sconfinamento del settore nostro proprio, che è un mercato esclusivamente professionale, e nasce da una richiesta sempre più pressante dei nostri clienti, di approcciarsi anche a questo settore, quindi questo è il primo, è la pietra miliare, diciamo, è il primo passo. Si colloca in una fascia alta di, diciamo, di design e di tecnica, è un sistema 2.1, completo, che si compone di un sub e due satelliti e l'amplificatore che controlla il tutto. Distribuiamo sempre tramite la nostra rete di eseguzione, ormai piuttosto consolidata, si stanno facendo nuovi partner, ma siamo in via di definizione di alcune nuove collaborazioni in questi giorni, proprio anche durante questa fera. Per quanto riguarda altre novità importanti, il restyling di tutta la linea Redline, e per questo vi farei accompagnare nel viaggio verso la spiegazione da Francesco, Francesco Maffei, product manager dell'azienda.